2012 faccio un giro nei giardini ecco un piccolo di margherite rosse una piccola rosa la veneta che va al passo altre rose rosa bianca, rosa rosa questo è un bel rosetto bello alto questo rosetto oggi è mercoledì 30 maggio 2012 la gattina che si fa un po' in giro questa è un'altra delle rose, margherite queste due rose qui questo aiuolo qua ha delle rose che stanno per sbocciare altre che sono già sbocciate ecco un altro rosetto un rosetto qui che sta per spuntare alcune gemme ecco la lì devono maturare e altre in punta poi le margheritine qua belle tutte fiorite oggi è una giornata splendida e abbiamo i giardini fioriti ecco è tutto ecco 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 Grazie a tutti